Cosa è la biodiversità? E le biotecnologie? E quando senti parlare di salto di specie, a cosa pensi? Se le scienze della vita sono la sfida del XXI secolo, può aver senso studiare la biologia? Biologia cellulare è il corso adatto per fare il primo passo all'interno del variegato mondo della biologia. Avvicinarsi a vari mondi che si occupano della vita in campo ambientale, delle produzioni agrarie e industriali, della salute dell'uomo e degli animali. Immaginare il futuro in modo sostenibile per il pianeta. 12 lezioni con video e attività interattive per conoscere e comprendere i meccanismi di base del funzionamento degli esseri viventi e di come questi interagiscono con l'ambiente che li circonda. Il percorso è dedicato agli studenti e alle studentesse degli ultimi anni della scuola superiore e del primo anno di università, in modo da poter acquisire le competenze necessarie per affrontare con successo le discipline inerenti le scienze della vita. Che aspetti ad iscriverti? Il futuro è più facile con Federica. Grazie per la visione!